I carabinieri di Vittoria, nottetempo, hanno recuperato un'auto rubata in pieno centro da Cate. I malviventi sono dati alla fuga, il mezzo è già stato riconsegnato ai proprietari. Poche azioni messe in campo dalla regione per dare un aiuto concreto ai lavoratori del consorzio di bonifica di Ragusa. Di Pasquale lamenta l'indifferenza di Musumeci. Le bollette tari pervenute ai modicani risultano già scadute, ancora da capire se arriverà a proroga o se vi sarà aumento per il pagamento in ritardo. L'aumento annullerebbe di fatto lo sconto applicato. Torniamo ad occuparci delle lunghe code a cui sono costretti gli utenti al pronto soccorso degli ospedali Iblei. Sulla vicenda interviene Maria Lucia Loretice che chiede incontro con Ficarra. Iniziano i play-off per la Passalacqua Ragusa. Gara 1 al Palaminardo contro le atlete del San Martino di Lupari. Gara intensa e combattuta che vede primeggiare la Passalacqua. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Incominciamo con la cronaca. I carabinieri di Vittoria hanno recuperato un'auto rubata nel centro storico di Acate. Il mezzo è già stato restituito al legittimo proprietario. I malviventi si sono dati alla fuga. Sentiamo i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Vittoria in pieno centro storico ad Acate hanno recuperato nottetempo un'autovettura che dai controlli è risultata essere rubata. I carabinieri nel corso di un normale controllo hanno notato l'utilitaria procedere a velocità sostenuta. Ne è nato un inseguimento in quanto gli ignoti alla vista degli agenti hanno accelerato dandosi alla fuga. Giunti in via indipendenza hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti. L'automobile è già stata restituita al legittimo proprietario. Resta alta l'allerta e l'attenzione dell'arma per contrastare il fenomeno in tutto il territorio di competenza. Non si esclude peraltro che il mezzo sia stato rubato per poter effettuare il furto con spaccata. Episodi di furti con questo modus operandi si sono verificati nei giorni scorsi a Pozzallo e a Chiaramonte-Gulfi. Andiamo avanti. Il Tribunale di Caltagirone assolve dalla denuncia di abusivismo e violazione delle regole ambientali gli imputati per la sentenza NOMUOS. Dall'accanto loro il movimento e i comitati NOMUOS non hanno però alcuna intenzione di arrestare la loro lotta e tra le diverse manifestazioni in programma una organizzata il 19 maggio a Ragusa. Sentiamo. La sentenza del Tribunale di Caltagirone assolve gli accusati per abusivismo. Il MUOS, un impianto a emissione di onde elettromagnetiche di cui ben 46 antenne risalenti ai primi anni 90, utilizzato dal corpo dei Marines americani per le comunicazioni di guerra in ogni parte del mondo e costruito a Niscemi, non è abusivo. Il Tribunale di Caltagirone ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, ricettando la richiesta di confisca della struttura. Non sembra essere un fattore troppo rilevante il fatto che la sughereta di Niscemi, come è noto, è sito di interesse comunitario ed essendo riserva nessuno potrebbe costruire al suo interno. Eppure proprio ieri il Tribunale di Caltagirone ha chiuso il processo di rito abbreviato che vedeva imputati per abuso edilizio e violazione della legge ambientale un ex dirigente generale dell'assessorato all'ambiente della regione siciliana e i titolari di due imprese di subappalto interessate ai lavori del MUOS nella riserva naturale di Niscemi. La Procura aveva chiesto la loro condanna a un anno di arresto e 20.000 euro di ammenda ciascuno, oltre alla confisca della struttura. Per l'accusa, l'impianto era stato realizzato senza la prescritta autorizzazione assunta legittimamente o in difformità da essa e l'assoluzione degli imputati di fronte all'abusivismo evidente dell'impianto è stata definita inaccettabile e sembra segnare la complicità dell'apparato giudiziario con le istituzioni politiche, i signori delle guerre e dell'illegalità. Ma il Movimento e i comitati no MUOS non hanno nessuna intenzione di arrestare questa continua lotta assolutamente pacifica contro il MUOS, le guerre e contro qualsivoglia logica di morte e devastazione. Dopo la grande manifestazione popolare tenutasi il 31 marzo scorso per le vie di Niscemi che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, il 19 maggio si terrà l'ennesima manifestazione a Ragusa, mentre a fine giugno si terrà un corteo a Caltagirone e i primi giorni di agosto un evento dal nome Campeggio Resistente no MUOS, un vero e proprio campeggio di lotta che si terrà al presidio di Contrada Ulmo a Niscemi. Torniamo ad occuparci della situazione dei lavoratori del Consorzio di Bonifica di Ragusa. Sulla vicenda interviene anche il parlamentare Nello Di Pasquale che lamenta l'indifferenza del governatore musumesci. Sentiamo. Nello Di Pasquale in una nota esprime le proprie perplessità sulle azioni messe in campo dal presidente Nello Musumeci per far fronte alla situazione precaria in cui si ritrovano i lavoratori del Consorzio di Bonifica di Ragusa. Di Pasquale lamenta poche azioni messe in campo sia dopo la protesta di martedì dei lavoratori che prima. In particolare si legge nella nota il parlamentare regionale a febbraio ha presentato un'interrogazione per chiedere delucidazioni sull'iter per reperire fondi e sulle misure da attuare per rendere produttivo il Consorzio. Nessuna risposta è stata data, ecco la lamentela del parlamentare. Tra i lavoratori che hanno protestato ve ne sono alcuni con 14 mesi di mensilità arretrate. L'interrogazione è stata fatta proprio, io sono parlamentare di opposizione, mi serve capire quando io posso dire quello che ho fatto da parlamentare di opposizione, tra cui gli abbiamo fatto avere un contributo straordinario al Consorzio di Ragusa. Io penso che la strada è questo, serve un contributo straordinario, così come già gli abbiamo fatto avere in commissione bilancio. Oltre poi alla riforma che noi non siamo riusciti a fare, ma che questo governo che è stato eletto dovrebbe fare. Ma intanto intervenire nell'emergenza, l'emergenza non servono grandi cose, sono scelte politiche. Il 28 febbraio ho fatto un'interrogazione e poi ho inviato ovviamente al Presidente e all'assessore e poi l'ho risollecitata, visto che non mi arrivava nessuna risposta, l'ho risollecitata dopo un poco di tempo. Ovviamente nel mese di marzo. Dopo l'interrogazione e dopo il sollecito nessuna risposta, è stato appunto che poi i lavoratori hanno fatto la protesta. Tutti noi conosciamo l'intervento del Prefetto e solo dopo l'intervento del Prefetto e la protesta dei lavoratori l'incontro a Palermo. Adesso ci occupiamo di sanità. La parlamentare 5 Stelle, Maria Lucia Lorefica, interviene sulla problematica inerente alle lunghe attese nei pronto soccorsi Iblei. Sentiamo i dettagli nel servizio. I pronto soccorso Iblei continuano ad essere oggetto di polemiche. Sono infatti sempre più frequenti i casi di intasamenti e lunghe code di pazienti costretti ad aspettare ore e ore prima di essere visitati. Situazione messa in luce anche dalla parlamentare del Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Lorefica, che in una nota afferma «Non credo di dire nulla di nuovo ai cittadini che vivono sulla loro pelle i disagi di tale attese». Eppure, continua Lorefica, l'ASP7 aveva garantito durante un incontro avvenuto la scorsa estate e poi anche in seguito di voler correre ai ripari. Sembrava esserci un progetto per risolvere le criticità. Invece, aver tolto i pronto soccorso a Comiso e Scicli non ha fatto altro che penalizzare ulteriormente la situazione di quelli di Modica, Ragusa e Vittoria, dove sono aumentati in maniera esponenziale gli accessi anche dagli altri nosocomi. Lorefica nota che nel capoluogo Ibleo andare al pronto soccorso è un'avventura e non certo per colpa dei medici e degli infermieri che si fanno in quattro per garantire i servizi e che serve potenziare quindi il personale troppo esiguo per le esigenze del territorio. Sono stata ripetutamente contattata da cittadini che hanno dovuto attendere ore prima di essere assistiti, evidenzia la parlamentare. Per questa ragione ho inviato una nota al commissario Ficarra. L'orefice si è infatti resa disponibile ad incontrarlo per sottoporli tale problematica e per trovare una soluzione celere e definitiva. Intanto, i numerosi utenti aspettano ancora l'apertura del nuovo pronto soccorso modicano, precedentemente annunciata per la prima decade di marzo e slittata forse per la fine di aprile. Ci spostiamo adesso a Modica per occuparci dei latari. Ai cittadini modicani è stata infatti spedita la bolletta già scaduta. Occorre adesso capire se arriverà una proroga per il pagamento. Vediamo. I contribuenti modicani non hanno avuto nemmeno il tempo di gioire per il ristrettissimo sconto del 5,15% applicato dal Consiglio Comunale di Modica alle tariffe della tassa sui rifiuti solidi urbani durante la seduta del 28 marzo scorso che hanno subito ricevuto la prima beffa dell'anno. Le bollette per l'acconto del 30% dell'atari del 2018 già scadute. Difatti le bollette emesse il 9 marzo 2018 stanno pervenendo in questi giorni nelle cassette della posta dei cittadini modicani già scadute il 20 marzo 2018. Quindi i modicani dovrebbero pagare immediatamente anzi prima altrimenti subiranno un aumento dell'importo per gli interessi di ritardato pagamento. Speriamo che da Palazzo San Domenico arrivi una proroga a questa scadenza e non venga applicato nessun aumento altrimenti quello sconto del 5% andrà ad annullarsi. Dopo i proclami dell'amministrazione comunale che inneggiava i risultati ottenuti grazie alla lotta all'evasione fiscale dei contribuenti modicani con il claim pagare tutti per pagare di meno adesso noi proponiamo un altro claim pochi maledetti e prima. Adesso ci occupiamo di Pozzallo dove sono previsti diversi lavori di manutenzione che l'amministrazione ha segnato in vista della prossima stagione estiva. Sentiamo. Pozzallo si rifà il look in vista della stagione estiva. Ci sono infatti in programma numerosi lavori di arredo e decoro urbano. È stata avviata la piantumazione di 150 alberi del tipo Washington Robusta che dal lungomare Raganzino raggiungeranno il lungomare Pietre Nere dove negli anni scorsi sono state abbattute le 46 palme ad oggi non sostituite. In tema di arredo urbano sono iniziati i lavori di ripristino della passerella adiacente alla Torra Cavrera la cui consegna è prevista prima dell'inizio della stagione estiva. Infine hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria della vasca e degli elementi scultori nella rotatoria di Via dell'Arno. Il sindaco Roberto Ammatuna si dichiara soddisfatto per il proseguo dei diversi lavori di arredo urbano avviati che faranno ancora più di Pozzallo una città accogliente in piena forma pronta a farsi apprezzare ed ammirare da quanti decideranno di soggiornarvi per la prossima stagione estiva. Ci occupiamo di cinema torna il cast di Entro Mezzanotte un film prodotto dall'esordiente regista Ipparino Peppino Orecchia a questo film partecipano anche tanti attori noti vediamo i dettagli nel servizio. Torna il cast di Entro Mezzanotte il film dell'esordiente regista Ipparino Peppino Orecchia prodotto con il regista Tony Gangitano e la giornalista vittoriese Concito Chipinti un progetto che è iniziato a febbraio con le prime scene in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione della pellicola domani 7 aprile sarà l'ultimo giorno delle riprese per poi passare alla fase montaggio della pellicola coinvolte anche attori di spessore come Guia Ielo Mario Oppinato e il giovane attore vittoriese Emanuele Gulino la location del film è la zona tra Vittorio e Scoghitti che per l'occasione si è trasformato in un set cinematografico a cielo aperto la pellicola vede come protagonista la storia di un uomo che vive e sperimenta l'abbandono e l'angoscia la solitudine e la tristezza per poi ritrovare in via la luce e la forza per uscire dal buio e dalle tenebre del cuore un film che veicola un messaggio di speranza e di amore come dichiara il regista Peppino Orecchia con un finale emozionante a sorpresa entro mezzanotte godo del patrocinio del comune di Vittoria della collaborazione di Canale 74 come media partner del film della Proloco e Avis come partnership e la collaborazione di aziende locali che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della pellicola domani a Vittoria sarà presentato il primo romanzo di Lino Busà dal titolo Vento di fuoco l'opera è definita un romanzo di una generazione racconta in prima persona l'esperienza di vita dello scrittore e gli insegnamenti di una vita ricollocati nell'immensità nell'immediata attualità vediamo questo servizio di Anna Maria di Raimondo sarà presentato domani a Vittoria alle 17.30 presso la sala conferenze Emanuele Giudice al complesso delle grazie la prima fatica letteraria di Lino Busà dal titolo Vento di fuoco l'evento è organizzato dall'associazione culturale Elohimart in partnership con l'associazione Lamba Doria e prevede la partecipazione dell'autore Lino Busà messinese d'origine ma romano d'adozione è stato da sempre impegnato socialmente oggi è consulente della commissione parlamentare antimafia ma è stato anche uno dei protagonisti del movimento anti-racket e anti-usura in veste di coordinatore nazionale di SOS impresa già conosciuto sotto le vesti di scrittore per la realizzazione di cinque saggi sulla criminalità organizzata quale testimonianza del suo importante impegno civile Lino Busà si ripropone oggi con il suo primo romanzo definito anche dal sottotitolo il romanzo di una generazione lo scrittore racconta la sua personale esperienza di vita importante testimonianza scritta in prima persona è fondamentale per lasciare vividi nel tempo gli importanti insegnamenti di una vita trasmessi da genitori e nonni e ricollocarli nell'immediata attualità il romanzo è ambientato in Sicilia in un luogo particolare per Busà definito tra il vulcano e il fiume nell'immediato dopo guerra così lo definisce lo stesso autore un libro sulle virtù e i vizi degli italiani sulla politica sulle speranze e sulle passioni di generazioni che paradossalmente si ripetono mettendo insieme le ansie e le speranze di cambiamento Passiamo allo sport e in particolare col basket iniziano i playoff per la passalacqua a Ragusa la gara la gara 1 si è svolta sul parquet del Palaminardi contro le Lupe del San Martino di Lupari gara intensa e combattuta che vede trionfare le ragusane con un risultato di 70-59 al Palaminardi appunto sentiamo buona la prima la passalacqua a Ragusa non fallisce l'appuntamento con gara 1 dei quarti di finale playoff e mette l'1-0 con San Martino di Lupari nella serie che si giocherà al meglio delle tre partite gara da due volti per la formazione bianco-verde che è partita a mille che è riuscita a scavare anche vendi lunghezze di distanza con le avversarie che invece si sono rifatte sotto nel finale arrivando addirittura a pareggiare ad attaccare per il vantaggio non è stato così perché la squadra di coach Recupido è rimasta lucida e alla fine l'ha portata a casa aggiudicandosi l'incontro per 70 a 59 l'abbiamo dovuta vincere due volte commenta il tecnico bianco-verde diciamo che abbiamo avuto un ottimo impatto sulla partita giocando benissimo in difesa il piano partita era quello che volevamo noi l'avevamo messa sui binari giusti poi c'è stato questo blackout nella seconda parte di gara che non è andato bene che tra l'altro ha portato anche una certa ansia a quel punto non abbiamo gestito benissimo e le abbiamo purtroppo rimesse in partita salvo poi riuscire nuovamente a ricacciarle indietro e questa è stata sicuramente una grande prova di forza San Martino è una bella squadra che gioca una buona palla canestro lo avevamo già detto lo scorso anno perché mette in mostra un basket aggressivo che mette tutti in difficoltà la chiave della partita è stata rappresentata dai rimbalzi soprattutto offensivi adesso andiamo a San Martino consapevoli che ci attende un'altra battaglia ma ovviamente l'obiettivo non può che essere quello di cercare di evitare la bella al Palaminardi erano esposte anche due vetture della concessionaria sponsor della società si replica con gara 2 mercoledì 11 aprile alle 19 mentre l'eventuale bella si giocherà al Palaminardi di Ragusa sabato 14 aprile alle 20 e 30 bene questo era l'ultimo servizio il Tg 74 termina qui vi ringrazio come sempre per la cortesa attenzione vi ricordo che potete seguirci sui principali social network e rivedere i nostri servizi su www.canale74.it arrivederci a presto